Resta stabile sotto quota mille la curva dei contagi in Campania. Ieri registrati 927 nuovi casi a fronte di 15.130 tamponi. La percentuale tamponi positivi in meno di sette giorni è passata dall'8,8 al 6,12%, 48 purtroppo ancora ai decessi, 11 nelle ultime 37 ore, 24 registrati in precedenza. Sarà intanto un Natale molto probabilmente a zona rossa quello che si vivrà in Italia, un nuovo lockdown a tempo che coinvolgerà tutti gli italiani nei giorni di festa. Le restrizioni infatti riguarderanno le date comprese tra il 24 e il 27 dicembre, tra il 31 e il 3 gennaio, il 5 e il 6 gennaio. Le misure contenitive al covid prevedono il divieto di ogni spostamento a eccezione fatta per quelli motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Vietata ogni visita incontro con parenti o amici non conviventi in qualsiasi luogo aperto o chiuso senza una valida ragione per uscire. Sono confermate soltanto le visite ai genitori anziani. Consentito fare una passeggiata nella prossimità della propria abitazione, consentito portare anche fuori il cane due volte o tre volte a giorno. Chiusura di tutti i ristoranti e i bar, le attività di ristorazione, comprese le pasticcerie e le geraterie, che resteranno aperte soltanto per la vendita da asporto dalle 5 alle 22. Chiuse le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari di prima necessità, farmacie, tabacchi, ferramenta, lavanderie, negozi di giocattoli ed elettronica, cartolerie, edicoli, distributori automatici. A partire poi dai giorni intermedi, dai giorni di festa, quindi dal 28 al 30 di dicembre, dal 4 gennaio al 7 gennaio e successivi, l'Italia potrebbe diventare zona gialla. Questa la misura proposta dal governo per permettere alle attività commerciali di recuperare quello che perderanno durante le feste natalizie.